Gli uffici dell'assessorato della famiglia, delle politiche sociali, del lavoro, nelle prossime ore provvederanno al pagamento dei sussidi per i lavoratori ASU del mese di gennaio. Si tratta della somma di 2.279.909,27 euro relativa ai sussidi del mese di gennaio 2023. È destinata a 3.757 lavoratori ASU che svolgono il loro servizio presienti locali e privati. A partire dal mese di febbraio l'importo sarà liquidato sulla base dell'aumento dovuto all'adeguamento ISTAT pari a circa 48 euro mensili. Successivamente gli uffici si occuperanno di integrare il sussidio di gennaio e liquidare le ore integrative del periodo settembre-dicembre 2022. Proseguiamo nell'obiettivo di dare sicurezza ai lavoratori ASU che rappresentano una risorsa importante per l'attività di molti uffici, ha dichiarato l'assessore Nuccia Albano. Fondamentale è stato l'emendamento del Movimento 5 Stelle. Il risultato del voto palese da me richiesto, ha detto Antonio De Luca, ha mandato sotto la maggioranza, facendo così approvare quello che non esito a definire un atto di civiltà in attesa della stabilizzazione di questi lavoratori. Il Partito Democratico con le opposizioni ha saputo dare risposte concrete a queste due categorie, che però devono essere impiegate di più dalla Regione e dalle amministrazioni locali, ha detto Michele Catanzaro, capogruppo del Partito Democratico all'Assemblea regionale siciliana, a proposito dei due emendamenti dell'opposizione approvati questa mattina nell'Aula. Grazie. Grazie.